E questa è la realtà, non è vero che ci sono solo realtà che premiano i vostri punteggi, la vostra media e il vostro profilo in senso stretto per questi elementi, ok? Ho aperto questo canale a YouTube perché voglio che le informazioni siano trasparenti, che tutti voi possiate avere accesso, me compreso, a tutte le informazioni che stiamo cercando, ok? Non voglio parlare di regole segrete, di regole non scritte, persone che condividano delle prospettive simili alle vostre e di quanto sia bello farsi contaminare in modo positivo da queste motivazioni, da questa intraprendenza, accentuare e implementare l'aspetto umano dei nostri caratteri. Questo è fondamentale ragazzi per differenziarci. Di far sì che nessuno di voi ricada in magari certi errori banali, in certi cavolate che possono compromettere in minima parte il vostro percorso, il vostro tragitto verso, diciamo, i vostri obiettivi futuri. Entro nella mente e nei pensieri degli studenti, però ovviamente per farlo, prima di tutto, devo entrare nella mia e quindi in quelli che sono i miei pensieri, quelli che sono stati i miei dubbi, le mie preoccupazioni, le mie ansie e tutti gli ostacoli che ho affrontato durante il mio percorso. Ecco, questa è una cosa che io faccio, ho sempre fatto e continuo a fare, ok? Ed è un qualcosa che mi ha portato ad aprire questo canale YouTube, in quanto io personalmente da questo tipo di pensieri, da questo tipo di concetti che sono andato poi a sviluppare nella mia mente, nel mio quotidiano. Sono stato in grado di trarre veramente degli ottimi spunti a livello di mentalità, motivazione, diversità a livello di profili, di persone che magari sentiamo dire tutti quegli studenti estremamente perfetti, eccetera, eccetera, perfettamente inquadrati sulla loro attività, sul loro studio, sulla loro ricerca di tirocini, eccetera, eccetera. Quindi magari un profilo un po' più ibrido, un po' più tranquillo, ma allo stesso tempo non meno efficace ed efficiente nel raggiungimento di tutti quelli che sono gli obiettivi che studenti con le nostre ambizioni possono prefissarsi. Ho aperto il mio canale YouTube proprio per questo motivo. Il motivo principale stava proprio nella mia volontà di voler condividere con voi quelli che erano le realizzazioni che io stessi compiendo giorno dopo giorno. E per realizzazioni intendo quei concetti, quelle forme mentis, quegli approcci che una volta che le hai messe in pratica riconosci veramente che sono la chiave, la soluzione alla realizzazione di tutti i tuoi progetti, di tutte le tue sfide e veramente al superamento di ogni ostacolo e difficoltà che può presentarsi durante il tuo percorso o almeno alla gran maggior parte di questi ostacoli e difficoltà. essenzialmente ho capito che con una bella dose di forza di volontà, con impegno, con dedizione e con tante ore dedicate a un application, a un progetto, alla preparazione di un esame, di un test, possiamo veramente raggiungere i risultati che vogliamo. Possiamo veramente fare qualsiasi cosa. Ho veramente capito, nelle circostanze in cui ho fatto application per l'Exchange Singapore e nelle circostanze in cui ho fatto poi application per Stockholm School of Economics, dopo le rejection che ho ricevuto, come parlo appunto nel video dove parlo dei fallimenti che mi hanno motivato e rinforzato, ho riconosciuto che qualcosa che inizialmente mi sembrava impossibile è diventato poi realtà. Ma io non lo dico così per dire, a me realmente sembrava impossibile inizialmente, all'inizio dei miei percorsi, all'inizio della mia preparazione di questa application, mi sembrava veramente lontano e impossibile entrare, per esempio per l'Exchange Singapore o per il Master's Degree a Stockholm, ok? E quindi questo è il grosso tema. Il grosso tema sta proprio nel fatto che io ho capito che con una bellissima dosi di dedizione, motivazione, verticalità totale e impegno su quello che vogliamo raggiungere e quindi mettendoci tutti noi stessi, la nostra anima, il nostro pensiero, il nostro sforzo più genuino e più umano che viene proprio dalla nostra motivazione più intrinseca, noi possiamo veramente raggiungere quelli che sono gli obiettivi, gli ideali che ci mettiamo in testa, che vogliamo metterci qua, non ci sono tante cose che possono mettersi in mezzo a questo percorso e voi sarete in pace con voi stessi solo nel momento in cui saprete di aver dato il massimo, ok? Quello è veramente il punto a cui bisogna arrivare, così da non avere nessun rimorso, nessun rimpianto. Quindi, perché ho aperto un canale YouTube? Per motivarvi, per farvi capire il vostro potenziale che in questo momento probabilmente non vedete, perché il vostro potenziale, come il mio, è molto di più di quello che possiamo immaginarci, è molto di più di quello che ci viene detto dalle altre persone. È qualcosa di non tangibile ed è difficile da identificare, è difficile da scovare. E l'unico modo per realmente trovarlo è mettersi di impegno sul proprio craft, sul proprio lavoro, sul proprio obiettivo, su quello che si vuole realizzare. Ma veramente tanto però, ok? Metterci una dedizione, una motivazione, un impegno che nessun altro ci mette, ok? Ma questo non è che dovete imporvelo perché c'è qualcuno che ve lo impone, no, questo viene proprio da voi, questo viene da dentro, emerge dal vostro inner spirito, ok? Quindi da dentro. E nel momento in cui sentite quella chiamata, sentite che dovete mettervi in gioco, se avete questa percezione, se l'avete avuta, allora lì ragazzi dovete fare un all-in a livello di dedizione e impegno. E questo ripagherà. Io ho aperto questo canale YouTube per farvi capire che tutto è possibile, che ogni traguardo, che ogni obiettivo che vi prefissate è raggiungibile, che nessuno può dirvi se siete in grado di fare qualcosa o no, che non c'è una regola perfetta per arrivare dal punto A al punto B, per raggiungere quelli che sono i vostri sogni, non c'è un percorso delineato perfettamente. Io ho aperto il canale YouTube per farvi capire che il vostro potenziale è molto di più di quello che pensate. E ho aperto il canale YouTube per farvi conoscere la versione di me più spontanea, più genuina che emerge da questi video, per farvi conoscere le persone che sto conoscendo attraverso le interviste che faccio, le persone che studiano in università in tutto il mondo, per farvi capire il valore dell'amicizia, della creazione di un rapporto umano. Ho aperto questo canale YouTube per farvi capire l'importanza del circondarvi di persone che abbiano interessi simili ai vostri, di persone che condividano delle prospettive simili alle vostre e di quanto sia bello farsi contaminare in modo positivo da queste motivazioni, da questa intraprendenza, da queste ambizioni che hanno queste persone, ok? Ho aperto questo canale YouTube perché voglio che le informazioni siano trasparenti, che tutti voi possiate avere accesso, me compreso, a tutte le informazioni che stiamo cercando, ok? Non voglio parlare di regole segrete, di regole non scritte. Ho aperto questo canale YouTube e ho creato una community di studenti in questa chat dove siamo oltre 200 per farvi capire che ognuno di noi ha il diritto di accedere a quelle che sono le informazioni cui dovrebbe avere accesso, o almeno che dovrebbe conoscere come studente di un percorso trennale in economia. Questo è veramente importante. Ho aperto questo canale per farvi capire che esiste realmente, e ho avuto un riscontro concreto attraverso le mie application, esiste realmente un aspetto della vostra personalità che va oltre la media, voti e il punteggio del GMAT, ok? C'è qualcosa che va oltre e questo riguarda le vostre motivazioni, il vostro percorso, le vostre attività extracurricolari, il vostro lavoro che avete fatto, la vostra personalità, le vostre passioni, che siano sport, qualsiasi cosa. Questi sono elementi che verranno sempre e sempre di più presi in considerazione in tutti i processi di application, che siano processi di application per una posizione di lavoro o processi di application per un'università. Questi sono tutti elementi che contribuiranno in modo veramente positivo alla forza del vostro profilo, in quanto poi tra l'altro viviamo in degli anni in cui i ruoli delle persone stanno effettivamente venendo sostituiti da quelli che sono i ruoli e i compiti che una intelligenza artificiale può compiere, ok? Quindi distacchiamoci sempre di più dall'aspetto robotico delle nostre personalità, ok? E cerchiamo invece di accentuare, implementare l'aspetto umano dei nostri caratteri. Questo è fondamentale, ragazzi, per differenziarci, ok? Quindi teniamo ben a mente questi fattori. E questa è la realtà, non è vero che ci sono solo realtà che premiano i vostri punteggi, la vostra media e il vostro profilo in senso stretto per questi elementi, ok? Fidatevi di me perché così è stato con l'exchange a Singapore, così è stato per master's degree a Stockholm School of Economics, ok? Un apprezzamento di quelle che erano le motivazioni, le passioni e gli elementi extra voti e GMAT che io per esempio ho messo sul tavolo. Sono sicuro che queste abbiamo fatto una differenza, ne sono sicuro al 1000%. Un altro motivo per cui ho aperto un canale YouTube è per dare coraggio a me stesso, in primo luogo, verso questa azione di esporsi un po', ma allo stesso tempo dare coraggio anche alle altre persone che sentono che avrebbero questa voglia di aprirsi un canale, ok? Io ho parlato con tanti ragazzi che avevano questa idea, poi l'hanno effettivamente messa in pratica e in questo momento stanno continuando a pubblicare ed esporsi anche loro attraverso i video su YouTube. Credo che questa sia una cosa bellissima e credo che ci sia solo che da trarre un senso di unione, un senso di comunità, tra virgolette, di community generale, che è quella di noi studenti che siamo, diciamo, uniti da una cosa molto semplice. L'ambizione veramente di voler capire cosa è meglio per noi, per il nostro percorso e la motivazione di, diciamo, crearci le strade e capire di cosa sono fatte queste strade, ok? Quindi ragazzi ambiziosi, educati, rispettosi, volenterosi, queste sono veramente le cose che contano di più alla fine della giornata. Altro punto importante, io ho aperto questo canale YouTube con l'obiettivo e la visione di aumentare la consapevolezza in ognuno di noi studenti riguardo le possibilità, le marea di possibilità che ci sono per noi dopo il percorso trennale e non solo. Quindi veramente fantastico ragazzi, ok? Prendiamoci conto che il mondo non si chiude alle 5, 6, 7, 8, 9, 10 università, magari che abbiamo sentito dire di più, nominare di più, ma le opportunità che possiamo crearci, per esempio andando verso l'estero, eccetera, sono una cosa, cioè, infatti io voglio continuare in questa serie di episodi portando i profili più diversi, percorsi più diversi, uscendo un po' dai soliti, eccetera, eccetera, proprio per far vedere realmente, portando esempi concreti, perché uno ne parlo, ok, però portando esempi concreti di percorsi un po' più atipici, no? E questo credo sia una cosa bellissima. E l'ultima motivazione che aggiungerò alla motivazione per cui ho aperto il mio canale YouTube sta in un altro motivo per me super importante che mi sta tanto a cuore. Quando ho iniziato a fare i video con un po' più di frequenza, quindi i video per esempio su Copenhagen Business School, da lì in poi, quando non ero stato preso, ecco ragazzi, lì ho capito veramente da quel momento, dal momento in cui ho iniziato a condividere questo tratto un po' più, diciamo, meno da festeggiamenti, ecco, del mio percorso, ho iniziato a capire l'importanza di voler condividere gli elementi e i consigli che io avrei voluto sapere prima di compiere i miei passi, con il solo e unico obiettivo di far sì che voi, che nessuno di voi, ricada in magari certi errori banali, in certi cavolate che possono compromettere in minima parte il vostro percorso, sul vostro tragitto verso, diciamo, i vostri obiettivi futuri, ok? Quindi questo è veramente uno degli obiettivi principali, ok? Far sì che voi non compiate gli errori che per esempio io ho commesso. E poi, portando tante persone anche attraverso le interviste, anche lì ascoltandole parlare, si capiscono dei tratti, dei momenti, degli istanti, del loro percorso in cui magari avrebbero fatto una scelta diversa, avrebbero preso un gap year, eccetera, eccetera. Quindi questo è un altro tema super fondamentale. Io ragazzi vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per l'apprezzamento che mostrate sia verso la mia persona, ma anche verso i video e i contenuti che riesco a portare. E quindi veramente grazie tante, volevo fare questo piccolo video di recap sul perché io faccio i video su YouTube. Ed ecco, questo è tutto ragazzi. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!